Unboxing del nostro Gear RTA by OFRF Apriamo la confezione e troviamo Un Drip Tip con attacco 510 Frosted Un altro Drip Tip in Delrin con un foro più piccolo sempre con attacco 510 Un Bubble Tank che ci fa avere una capienza di 3,5 ml Un Cacciavite con inserto a taglio Una piccola guida su come rigenerare l'atomizzatore E abbiamo questi sacchetti che sono proprio a parte per la grafica e per il colore Identici spiccicati a quelli della Wotof In questo caso abbiamo un pin di riserva, delle viti di riserva e degli OR di ricambio I baffetti appunto come quelli della Wotof per cotonare la nostra coil E proprio appunto perché ci andiamo vicini Stesso pacchetto, stessa grafica anche delle specie e stesse identiche coil che sono state fornite anche nel Serpent, nel Serpent Elevate e altri atomizzatori che abbiamo recensito Le Framed Staple Clapton Full Nicrom con le specifiche dei fili Power Range è la punta su cui sono state girate Analizziamo subito il nostro atomizzatore Userò il tip di ricambio perché è quello che mi piace di più tra i due Anche se nessuno dei due in realtà mi piace, ne stavo usando un altro mio ma per le misure e quant'altro userò questo Andiamo appunto a prendere le misure del nostro mini atomino, del nostro Gear RTA Abbiamo un atom da 24 mm e un'altezza dalla base al tip di soli 33 mm Per un peso complessivo con un tank di liquido Perché purtroppo solo a fine registrazione mi sono ricordato che non avevamo pesato l'atome, l'avevo già riempito Quindi con un tank pieno da 2,3 ml e la coil inserita chiaramente sono 40 grammi Questo atom è un single coil rigenerabile Partendo dall'alto appunto abbiamo questo drip tip che come abbiamo visto insieme all'altro È fatto a modi diamantino potremmo dire Quindi presenta questa svasatura prima verso l'esterno e poi verso l'interno Che servirebbe a vertire meno calore sulle nostre labbra Il drip tip appunto ha questi due elastici, questi due OR che fanno presa Ed è un drip tip di misura 510 come attacco Questo tip lo preferisco, l'unico problema è che fa condensa Viene spesso su del liquido e quindi non mi è piaciuto Poi abbiamo qui di fianco al nostro drip tip questo motivo, questo ingranaggio molto carino Abbiamo una classica zona refill standard come quasi tutti i tank Quindi semplicemente afferriamo questa parte qui in rilievo Non ci sono zigrinature o quant'altro ma essendo sporgente rispetto al tank si riesce ad afferrare senza alcun problema Buona filettatura, si svita, si avvita bene Passabilissima per quella che è la fascia di prezzo, tutto a posto Sistema di refill proprio classico come piace a me a tutti gli effetti Quindi due asole veramente enormi Il cammino che è rialzato rispetto alle asole in modo che è quasi impossibile che ci finisca accidentalmente del liquido dentro durante le fill Dopo quando andate a richiudere è anche impossibile avere dei leaking o quant'altro Quindi tanta roba Il tank è veramente minuscolo ragazzi come vedete è formidabile, piccolino, bellino Qui sulla campana abbiamo la scritta punto gear Sotto abbiamo la nostra presa dell'aria Entra da due direzioni, anche qui c'è un inizio e un fine corsa Questa ghiera mi piace tanto perché è bella, robusta, giusta corsa Non è troppo dura da girare ma al tempo stesso non capiterà mai che le regolazioni si spostino da sole Tanta roba sotto questo aspetto Pin gold plated come vedete da voi molto poco sporgente Non sarei molto tranquillo a utilizzarlo su mod ibride quindi forse in voi non lo farei Questo atom ha una capienza di 2,3 ml con questo vetro E con il bubble tank che vi ho mostrato prima andiamo a 3,5 Andando a svitare la parte sottostante abbiamo accesso al nostro deck Anche qui la filettatura, tanta roba, mi piace tantissimo Abbiamo un sistema di serraggio veramente classico Quindi abbiamo queste quattro viti che indipendentemente da com'è la gambina della nostra coil Se la vogliamo mettere a pancia in giù piuttosto che a pancia in su anche se noi l'abbiamo usato solo a pancia in su a dire il vero Riuscite a metterla senza alcun tipo di problema L'aria che entra appunto da queste asole Questo foro di 4,8 mm che ci spara l'aria sulla nostra coil Qui di fianco appunto abbiamo i nostri canalini per il cotone Dopo ovviamente lo andremo a rigenerare Vi faremo vedere come si inseriscono eccetera Il sistema di alimentazione è uguale per esempio a quello della MIT MTL RTA che abbiamo anche recensito In poche parole il liquido passa tra questo piccolissimo canale che c'è tra la fine del deck e la fine dell'atom Passa qui sotto e poi i baffetti di cotone che saranno infilati in queste asole Pescano il liquido e lo portano su Quindi ragazzi niente di innovativo niente di da strapparsi i capelli da testa ecco insomma Niente che non abbiamo già visto in precedenza Per quello che riguarda la campana questa campanina molto piccola Come conformazione mi ricorda un po' quella del Kailin Mini a dire il vero come tipo di campana È molto bassa ovviamente più bassa dato che l'atom è molto più piccolo Però appunto la conformazione mi sembra abbastanza uguale Quindi c'è questa leggerissima svasatura che va verso l'ingresso del camino ma è molto 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 leggera comunque Detto questo andiamo a montarci sopra l'altra coil in dotazione residua che mi è rimasta nel pacchetto Visto che una delle due già l'ho utilizzata per effettuare i test preliminari di questo atomizzatore Quindi prendiamo la nostra Framed Staple Clapton da 0.33 con interni 28 esterno 38 per 9 più 28 più 36 Insomma sono 5 spire su punta da 3 Come range di utilizzo viene indicato tra i 40 e i 55 watt Adesso la andiamo a installare sul nostro atomizzatore Loro ve la forniscono così ma voi ovviamente per poterla andare a utilizzare su questo deck dovrete andare a piegare la gambina Quindi dopo averla inserita sulla punta da 3 fate una bella pressione sulla gambina residua della coil E aggiungete questa mezza spira che vi consente poi di andarla ad alloggiare dentro il vostro build deck Come vedete ci basta sollevare le nostre viti Posizionare la coil il più vicino possibile al foro dell'aria Nonostante abbiamo queste viti con questo inserto a taglio molto grandi che vi piacciono tanto E quindi dovrete andare a inserire il filo nel canale che si va a creare quando andate a sollevare la vite Nonostante sia tutto molto piccolo posso garantirvi che comunque nonostante stiamo usando una coil molto ingombrante Molto complessa e molto tutto si riesce ad installare senza alcun tipo di problema Sotto questo aspetto ci siamo Adesso scusate che sto litigando con la telecamera per vedere se è centrata Bene la coil mi sembra perfettamente centrata e posizionata Magari provo giusto ad abbassarla un altro pochino per cosa mia ma per me anche così dovremo essere abbastanza a posto Dopodiché andiamo a tagliare l'eccedenza di filo Mi raccomando state attenti a tagliare l'eccedenza il più possibile in modo che la rimanenza non vada poi dopo a toccare la campana creando possibili corti circuito Andiamo a eliminare gli hot spot della nostra resistenza Mettiamo 40 watt che è il minimo che loro indicano ma per me già più che sufficiente A questo punto inseriamo il cotone prendiamo il nostro baffetto prefatto che ci viene fornito in dotazione Per me questi baffetti in dotazione sono troppo spessi infatti un pochino lo sfoltisco ma questo come qualsiasi baffetto Noto sempre che sono fin troppo aderenti dopo infatti il cotone tende a saper dibruciato così per me siamo alla consistenza ideale I amice abbiamo fatto svariate prove ragazzi per quello che riguarda tagliare la lunghezza del cotone Dove lo tagliate tagliate purtroppo c'è da dire quest'atom tende comunque minima a spittare Però ho notato tra le varie prove fatte che se vi fermate proprio all'altezza della parte appena esterna All'altezza dell'OR nero dalla parte esterna abbiamo il meglio che riusciamo a ottenere Almeno secondo le nostre prove questa qua è la lunghezza ideale che siamo riusciti a trovare Come avete visto rigenerazione molto semplice senza menate molto veloce A questo punto proviamo ad attivare Tutto funziona e non ci resta che assemblarlo riempirlo e utilizzarlo Collaudiamola Per collaudare il nostro Gear RTA stiamo usando l'harmonium della tabaccheria fatto su base 70-30 al 10% oggi pomeriggio Sulla nostra Lux Nano by Vaporesso 45W Sarò il più breve possibile Né Né perché comunque è un tenchino piccolo Stilt Molto comodo da ricaricare anche se non è niente di innovativo Anche se adesso con tutti i sistemi a clip che stanno facendo anche che funzionano molto bene Mi sembra una cosa un po' arretrata però io comunque questo genere di sistemi L'uomo alla follia parlo come sistema di ricarica quindi per me ok Rigenerazione ultra semplice Cotonatura ultra semplice Però nel complesso ci sono alcune cosine che mi hanno fatto storcere un po' il naso Tipo il più grande difetto adesso non so Sentiamo anche Miles perché questo qua Ce l'abbiamo avuto tutti e due Ce l'abbiamo andato due e l'abbiamo studiato entrambi Personalmente ho fatto 5 prove diverse col cotone E dove più dove meno in un modo o nell'altro Che sia nel refill che sia dopo che fermo Schizza sempre Sì più o meno comunque tendenzialmente lo fa Quindi Schizza 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 Ed è una cosa che mi fa schizzare Perché è veramente una cosa assurda Cioè lo lasci fermo un'ora Fai il primo puff e ti arriva proprio boom Quella goccia bollente tipo lava sulla lingua Ed è una cosa che io Sarà anche il fatto che è così bassino Sarà il fatto che è tutto così piccolo Tutto così vicino Non lo so però rispetto a tanti altri sistemi del genere Spitta tanto Tanto Molto più anche quello che può essere un serpent E questa cosa mi dà parecchio fastidio Sinceramente Sì è vero conferma Altra cosa La resa aromatica È molto piatta Sì non ti da Cioè non spicca nulla Abbiamo provato liquidi di vario genere Cremosi, fruttati Tabacosi, tabacosi aromatizzati E non Cioè non ha Senza infamia e senza gloria È un po' con tutto Cioè non ti dà mai Giusto l'obsidian Ci ho provato È quello che mi è piaciuto un po' di più Sì Ma anche perché Avevo messo con Cata di Dieli Che comunque Sul consiglio di Senis L'avevo un po' pompato Mettendogli un po' di sweetener Quindi magari poteva essere Anche quello che me lo rendeva Un po' Ah il tuo sweetenerizzato Ok Me lo rendeva un po' più Buono Però sì Nel complesso Cioè Magari per uno che si vuole approcciare Un tankettino facile da rigenerare O ne vuole uno piccolino Da usare Su una mod piccola come questa Senza spararlo tanto tanto alto Di vattro Ci può stare Però non Cioè Non ha niente di Di esaltante Ecco Cioè per esempio Non è questione della build Perché ci ho provato anche Anche se pur leggero Visto che ho pensato magari La coil che è troppo massiccia Ci ho fatto 7 spire Su punta da 3 Di Nicrom 26 Era l'unico che ho portato in mano Avrei voluto usarci un 22 Ma con 24 Ci abbiamo provato il Miles Avevo con me La mia ragazza in negozio Che ogni tanto Vi faccio fare anche a lei due prove E anche lei Che io Il Miles è meglio Il fatto provare in tutte le salse Mi ha detto proprio La stessa identica cosa Che ho pensato io A parte il sapore del pistacchio Che è veramente L'unico setup In cui ho sentito Un po' il sapore di pistacchio Mi ha detto Tira fuori Tutte le parti Un po' più brutte del liquido Ho avuto proprio Questa impressione Sapeva di poco E tirava fuori Proprio le parti brutte Del liquido Che non avevo mai sentito Da nessun'altra parte Tant'è che Tra questo Ci abbiamo provato Il pistacch down Tirava molto Sulla parte Della buccina marrone Il pistacchio Era accettabile Però comunque Fiacco Cioè non è Quell'alto Che ti dici Wow Il flavor Che ti rimane in bocca No Comunque È sciapo È piatto Io ci ho provato Anche una custard Col mango Poi si sentiva proprio solo la parte Diciamo Più secca della custard Piuttosto È un pochino di mango Piuttosto che tutto L'ammalgamento Che ha quel liquido Che tendenzialmente a me piace Tant'è che siamo arrivati alla conclusione Ma non è che magari Forse la morte sua Sono dei tabaccosi Svapati in flavor Così di polmone Proviamo Lui ha messo l'obsidian Anch'io l'ho provato Ci sta L'ho sentito meglio D' altre parti Però concordo con lui Sì Sicuramente il liquido Che ho provato Lì dentro Che mi ha dato Più piacere Rispetto agli altri Quello sicuro Sto armonium Come ti sembra? Cioè ormai l'armonium Lo conosciamo bene entrambi Sa principalmente Di lattachia Con questo leggero Sotto fondino Di nocciola E basta Cioè è più appagante Respirare il vapore Che tiro fuori Che quello che svato Quindi nel complesso Mi dispiace Ma non mi ha esaltato Un gran questo prodotto Il video è terminato Se vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Qua sotto Iscrivetevi al nostro canale Youtube Un bel like su Facebook E condividete i nostri video Everywhere E seguiteci anche su Instagram E sul nostro canale Telegram Io sono Cata E sono Miles E alla prossima recensione Ciao Ciao